Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate una pioggia di like, grazie! Allora, oggi è il Tiago Jalodei, in quanto il neoacquisto juventino verrà presentato alle 15 presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium, saremo lì, raccoglieremo le sue prime impressioni e poi magari commenteremo assieme nel tardo pomeriggio appunto questa presentazione. Tiago Jalodei, che ieri ha intensificato il lavoro in gruppo, vi ho già raccontato di come dalle mie umilissime fonti, come direbbe Max Zampini, mi risulta che stia bene, quantomeno a livello clinico recuperato al 100%, è un discorso meramente, puramente di riatletizzazione, qua toccherà a Max Allegri assieme al suo staff decidere quando convocarlo, ma non è una cosa troppo in là, nella maniera più assoluta, o almeno le prime indicazioni a livello di campo sono state positive. È vero che Tiago Jalodei è un innesto che è stato fatto pensando specialmente al pacchetto arretrato, che verrà, siccome è arrivato ora, resta la Juventus, è pronto a dire la sua, ma dobbiamo tener conto del grave infortunio rimediato lo scorso marzo, però il giocatore anche ieri ha iniziato a intensificare il lavoro in gruppo, e questo è un ottimo segnale che speriamo possa portare la Juventus ad aver azzeccato il colpo, ad aver azzeccato l'opportunità giusta al momento giusto. Non è minimamente in stand-by la strada che sta per portare Moise Ken all'Atletico Madrid, in quanto ieri sono stati definiti gli ultimi dettagli a livello di società, la Juventus per questo presito secco, neroso, percepirà circa 500.000 euro, e ovviamente l'Atletico Madrid secco la parte rimanente dell'ingaggio di Moise fino al termine dell'annata. Ad oggi non abbiamo segnali di un rinnovo pre-trasferimento imminente, come ben sapete Moise va in scadenza il 30 giugno 2025, vedremo cosa accadrà, è normale che magari il sentore che questa partenza sia propedeutica eventualmente per una cessione a titolo definitivo in estate. C'è da dire che da quello che ho verificato io, offerte a titolo definitivo a gennaio perché non ne sono arrivate 6-7 in termini di acquisizione a titolo temporaneo, e Moise ha deciso tra queste di dare l'assoluta priorità all'Atletico Madrid, perché l'Atletico è l'Atletico, ha un fascino storico, particolare anche, l'Atletico è in Champions, l'Atletico è impegnato su più fronti, l'opportunità di lavorare col ciolo Simeone credo che poi possa anche intrigare lo stesso Moise, e quindi unendo l'intero quadro è normale che Ken abbia dato l'assoluta priorità all'Atleti e sia stato accontentato. Se tutto filerà riscio, e credo che non ci saranno intoppi, penso che tra domenica sera e lunedì mattina Moise possa essere a Madrid per sottoporsi alle classiche visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà ai biancorossi fino al termine della stagione. Quindi un grosso in bocca al lupo a Moise affinché si possa imporre. Non dico che la strada sia spianata perché i due là davanti sono intoccabili, Griezmann e Morata, ma dietro te la giochi. Dietro te la giochi perché abbiamo già spiegato più volte che Correa potrebbe andare in Arabia, ma anche se dovesse rimanere non è più al centro del progetto. De Pai neanche ne parliamo, tanti KO, tanti fortuni e anche lui sempre più fuori dal progetto. Quindi sulla carta Moise potrebbe essere il terzo a tutti gli effetti e quindi a livello di gerarchie. Io ragazzi, sarà che sono un fan di Moise da quando giocavo nei giovanissimi nazionali allenati di Claudio Gabetta, e io le partite me le andavo a vedere, i campi, però ho sensazioni positive. Non sono così drastico nel ragionamento come alcuni che dicono «No, ma là non troverà mai spazio, non riuscirà ad affermarsi». Insomma c'è lo spazio. L'atletico fa anche un calcio molto più offensivo rispetto al passato, perché è una squadra che crea molto e segna anche tanto. E quindi io spero che Moise possa far bene. D'altra parte in pochi avrebbero scommesso sul fatto che potesse imporsi al Paris Saint-Germain, aveva fatto tantissimi eretti. Chiaro, ho giocato con determinati fenomeni, ma qui va in un atletico che sa ampiamente il fatto suo. E dal momento che Moise spoggerà per la prima volta la maglia dell'atletico, io credo che il tifoso giuventino farà molto il tifo per lui in Champions, quando auspicherà che assieme a una vecchia conoscenza, graditissima, legatissima al mondo giuventino, qual è Alvaro Morata, magari no, sia una sorta di derby d'Italia esteso con la maglia dei Colcioneros. Ma ora, dobbiamo pensare a noi. Oggi è una giornata, secondo me, anche importante per capire se Federico Chiesa potrà andare in panchina con l'Empoli. Dall'inizio non ci siano chance, ed è giusto poi cavalcare l'onda a Kenan Hildi, dare fiducia a questo ragazzo che sta entusiasmando, ma sono anche le statistiche a dire che la Juventus con Hildiz abbia aumentato la produzione offensiva, quindi in termini di realizzazioni. Ovvio, i dati vanno sempre analizzati con fosforo, bisogna anche tener conto che la Juve ha affrontato non delle corazzate, però è innegabile constatare come a livello tattico, a livello tecnico, ci sia un feeling piuttosto netto con Dujan Vlaovic. Questo l'avevamo capito fino al principio. Infatti il mio auspicio, che credo che sarà difficile da riscontrare a livello di campo nel proseguo di quest'annata, è che alle volte si possa vedere Kenan cucire il gioco, magari con lo stesso Federico Chiesa e Vlaovic, quindi una sorta di tridente, moderno, anche se ho qualche perplessità, perché Chiesa ama partire dall'automancino, idem con Patate e Ildiz, seppur con caratteristiche differenti, perché uno strappa Chiesa, l'altro Cuccio, Ildiz. Però qualche esperimento era stato fatto, non esco le settimane alla continassa, da quello che mi risulta, ad oggi è un'ipotesi improbabile, perché lo aveva detto anche in conferenza recentemente a Legri, la Juve con questo assetto alla sua quadra, alle sue misure. Ha anche un'evoluzione, perché basti vedere i gol realizzati rispetto a qualche giornata fa. Quindi, come si dice in questi casi, cari miei, voi me lo insegnate, squadra che vince non si tocca, o meglio, sistema di gioco che vince non cambia. Però è importante, è importante avere Federico magari per 15-20 minuti, sarebbe importante contro l'Empoli, che non è da sottovalutare. Non ci sarà Adrian Rabiot, ma io credo, non dico in maniera netta e nequivocabile, ma secondo me Adrian giocherà dall'inizio con l'Inter. Il fatto che gli venga risparmiata questa gara con l'Empoli, dopo che gli era stata risparmiata la trasferta di Lecce, mi sembra un piano molto chiaro, cioè evitare brutte sorprese, quindi non andare a sovraccaricare il polpaccio e fare in modo che con massaggi, terapie individuali, lavoro mirato, poi un lavoro preposto a intensificare con il gruppo, ecco, tutti ingredienti che devono portare il Duca, e non potrebbe essere altrimenti, a disputare la miglior performance possibile dall'inizio nel derby d'Italia. Ma l'Inter io non penso, credo che anche voi dobbiate avere la mia stessa linea di pensiero, perché ora conta esclusivamente l'Empoli. E intanto Moise Ken andrà all'Atletico Madrid, ribadisco 500.000 euro nelle tasche della Juventus, per questo prestito oneroso ma secco, senza diritti, quindi eventualmente se Moise dovesse far bene all'Atletico e l'Atletico dovesse decidere di provare a tenere Moise, si dovrebbe aprire a tutti gli effetti una trattativa estiva. Piaggia di commenti.